Con una tesi sul lessico dell'apicoltura nelle inchieste piemontesi dell'Atlante Linguistico Italiano, Giulia Miccoli è la vincitrice del premio Gianni Oberto 2015. Il riconoscimento è stato consegnato al Teatro Astra di Torino. Grazie a un protocollo d'intesa con la Rete Italiana di Cultura Popolare, durante la serata tre artisti piemontesi sono stati nominati testimoni della cultura popolare per il 2015.